Vediamo in pista, grande avvio all'interno di Sandra Milena Ferrari, risalgono Mosetti, Carraro e Olivieri, 8.26 per Mosetti ad avvicinare quindi il proprio primato, Mosetti va a portarsi a casa il biglietto diretto per la finale davanti a Carraro, potrebbe bastare per Olivieri il terzo posto, ricordiamo che il secondo tempo di pescaggio Alice Muraro è 8.49 e dovrebbe essere a rischio possiamo dire, mentre ha buone probabilità di entrare l'8.41 di Giada Carmassi, sì direi di sì, quarto posto poi per Maccherone, direi Mosetti, Carraro e Olivieri, quarto posto per Maccherone quindi 8.25 per Mosetti che veramente accarezza il proprio primato. La soddisfazione di Nicola Mosetti, c'è anche lei per la sfida per il titolo italiano assoluto.